Marco Zabotti, scelta europea, una vera politica sociale in Europa non c'è, ci sono disparità di trattamento di salari e anche di finanza, di tasse, a lei la parola. Sì, torniamo al nodo di fondo, è un nodo politico, come a dire, fatta una costruzione in chiave monetaria, attorno all'euro, è una serie di politiche coincidenti, c'è il grande tema di mettere insieme e costruire l'Europa, lo ribadiamo noi come scelta europea, che siamo la lista italiana che fa riferimento al gruppo storico dell'Alde, è una esperienza, è una progettualità politica in senso politico alto dell'Europa, in senso federale, quindi vuol dire che da questo punto di vista, lo abbiamo messo nel programma, lo ribadiamo come candidati, c'è la necessità di mettere in campo politiche che siano comuni, cioè in cui le sperequazioni, le disuguaglianze, le penalizzazioni fatte e che si registrano proprio per la mancanza di criteri unitari, poi alla fine vengono a incidere pesantemente sui territori, la vicenda a cui facciamo riferimento in particolare penalizza un territorio enorme, vasto, di profondissima storia di grandissima intrapresa come quella del nord-est, in cui paradossalmente veniamo ad essere penalizzati proprio per queste disuguaglianze, per queste sperequazioni. Allora, il tema è di fondo, torniamo a verificare insieme la possibilità di costruire e di innovare proprio perché politiche economiche, fiscali, sociali abbiano come dire, siano il segno denominatore comune dell'Europa che vogliamo costruire. Torniamo al tema dell'iniezione della democrazia, dei nuovi trattati e di far sì che su questo ci sia la convergenza e un progetto unitario. Grazie, ha parlato Marco Zabotti, scelta europea.